Per la serie che mi mangio stasera, stasera abbiamo dell'ottima pasta e fagioli che vi consiglio sarebbe questa qua, dimmi di sì, le zuppe fresche, pasta e fagioli e questa è l'immagine che potete vedere anche qua. Degli ottimi chipster che naturalmente dopo mi mangerò molto volentieri, come frutta abbiamo delle nocci della primia che sono buonissime, sono già sgusciate quindi non devo neanche fare fatica a impazzire con lo schiaccianoce a disintegrarle, dell'acqua lenissima e intanto mi sto vedendo le partite di Europa League in diretta su TV8 e stanno vincendo sia l'Arsenal sia l'Atletico Madrid sia la Lazio. Vi faccio vedere il pezzettino di partita. Bene vado a mangiare che c'ho fame, ciao!